Buongiorno, sono Marco Cermoschi e sono Senior Partner di SINCO. SINCO è una società di consulenza che da anni, da ormai 30 anni, è specializzata nell'ottimizzazione della supply chain e in particolare delle attività distributive. Io nel dettaglio sono il docente del corso del responsabile dei trasporti. Normalmente il trasporto incide mediamente per il 50% sui costi della logistica distributiva, eppure su scorte e magazzino si hanno da tempo già metodologie solide e consolidate per l'ottimizzazione dei costi e delle prestazioni. Nel trasporto invece spesso ci si affida solo alla mera contrattazione col fornitore. In questo corso vogliamo darvi metodi, strumenti ed esperienze per gestire al meglio l'ufficio dei trasporti. Avete mai per esempio condotto un audit professionale dei trasporti per scoprire tutte le aree di miglioramento che si hanno a disposizione oppure sapete condurre un tender, quindi una gara di assegnazione dei servizi e trasporti in maniera professionale con tutti i documenti anche a supporto di questo contratto e il capitolato logistico. Conoscete tutti i software che abbiamo a disposizione che ci possano aiutare per l'ottimizzazione dei trasporti e le loro caratteristiche. sapete quanto è facile coniugare la green logistics e gli aspetti di ottimizzazione dei costi e dei trasporti? Ecco, per rispondere a tutte queste domande ed altre vi aspetto al corso del responsabile dei trasporti.